Nella versione 2020.2 Tableau ha rilasciato la possibilità di visualizzare le dashboard nel riquadro del Lineage. Se vi state domandando di che cosa si tratta, stiamo parlando della feature rilasciata con il Tableau Catalog. Essenzialmente si tratta di un add-on specifico per Tableau Server o Tableau Online. Per meglio comprendere di che cosa stiamo parlando, ci posizioniamo inizialmente sugli external asset. Quindi questa sezione dove avremo uno o più asset a cui siamo collegati. In questo caso mi posiziono su workbook, clicco e sulla destra appunto comparirà una sezione denominata appunto Lineage che contiene appunto una serie di metadata informazioni su quello che è il nostro workbook e comunque i data source che stiamo andando ad analizzare. Essenzialmente per questa base di dati vedo che ci sono collegati un data source, un workbook, due sheets, una dashboard e due proprietari. Essenzialmente è qui che Tableau ha aggiunto una serie di features nel corso delle ultime release e in questa particolare versione è stata appunto aggiunta questa sezione evidenzata, la dashboard di cui stiamo parlando. Per meglio comprendere il potenziale di questa feature ci possiamo inizialmente spostare su quello che è la nostra dashboard di esempio. In questo caso vedremo di quale dashboard stiamo parlando, il workbook in cui è contenuta, il project e appunto l'owner di questo workbook. Non solo, diciamo che la piena potenzialità effettivamente si nota quando in realtà ci riposizioniamo su workbook e andiamo a selezionare una particolare tabella. Supponiamo che prendiamo ad esempio la tabella views. In questo caso avremo una lista di campi e possiamo vedere in quali fogli sono stati usati. Vediamo che al momento non sono stati utilizzati in molti fogli, ma se ad esempio prendiamo questo campo, quindi l'owner name, e fleghiamo questa casellina, vedremo che in blu, qui sulla destra, viene in qualche modo, vengono evidenziati il numero di database, i data source, il numero dei workbook e di fogli su cui questo campo ha un impatto. Quindi si può facilmente intuire come sia una feature molto potente perché possiamo veramente chiedere informazioni su qualsiasi campo e valutare quindi che cosa comporterebbe una modifica di un particolare campo su quali tipi di workbook, quali tipi di fogli e quali tipi di dashboard. Ovviamente l'aggiunta di questa sezione dashboard non ha fatto altro che aumentare, essenzialmente consente di avere ancora una maggiore granularità a livello di informazioni e quindi a livello anche di comprensione della struttura dei dati sul nostro tableau server o tableau online. Grazie. 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 Grazie.